Mi chiamo Danilo Risi, sono un avvocato del lavoro e faccio parte dell'esecutivo nazionale dei giuristi democratici. Ho accettato di candidarmi con potere al popolo perché credo che in Italia ci sia bisogno di una sinistra credibile, di una sinistra affidabile, di una sinistra forte. In questi anni il Parlamento ha approvato leggi che hanno smantellato il diritto del lavoro, hanno distrutto lo Stato sociale, hanno mortificato la scuola pubblica. Bene, noi queste leggi le abbiamo contrastate nelle piazze, nelle manifestazioni, ma anche con il nostro lavoro quotidiano. C'è bisogno di una sinistra credibile in Italia, così come sta rinascendo in Spagna, in Francia, in Inghilterra. E nel prossimo Parlamento, che è pronto a costruire un nuovo governissimo che risponde solo ai poteri forti della grande finanza, noi saremo, se necessario, a un'opposizione, ma una posizione ferma. I nostri voti non sono in vendita e a partire da questa opposizione ricostruiremo un tessuto sociale che anche dopo il 4 marzo saprà dare delle risposte serie ai bisogni del Paese e del nostro popolo. Il 4 marzo vota potere al popolo. Iscriviti al nostro canale! Grazie.